Allora noi abbiamo fatto questa iniziativa per dire una cosa semplice, persino banale e cioè che in una cooperativa sociale i proprietari sono i soci lavoratori ed è una questione, ripeto, talmente banale e scontata che tuttavia molti dimenticano a partire dal commissario del governo, dal commissario ministeriale e quando diciamo che i proprietari sono i soci lavoratori intendiamo dire che sono anche i proprietari del patrimonio dell'Aidas che è un patrimonio ingenti, questa è una cooperativa che ha molti problemi finanziari ma ha anche un grande patrimonio e forse proprio per questo ha dei problemi perché è un patrimonio appetibile ed è un patrimonio fatto di immobili cito per tutti con le rollette ma anche altri altro canto eccetera fatto di professionalità acquisita negli anni e fatto dalle autorizzazioni sono lavoratori che non sono pagati da 13 mesi e che hanno seguitato a lavorare e che hanno costruito questo patrimonio con anni di lavoro duro spezzandosi la schiena con un lavoro che molti di noi non farebbero e che loro fanno con competenza e con passione chiedono e chiediamo il pagamento degli stipendi e prospettive di lavoro per il futuro